Un centinaio di eventi, oltre 80 associazioni di volontariato che operano in settori differenti. Sono questi i numeri che contraddistinguono il settembre lucchese, organizzato dal Comune di Lucca con il sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmi. Il settembre è innanzitutto tradizione e religiosità, con l'appuntamento storico della Luminara di Santa Croce la sera del 13 settembre nelle vie del Centro Storico, che sarà trasmessa in diretta da Noi TV. Poi l'esaltazione della Croce, il giorno successivo in San Martino alle 10.30 e la festa di San Michele il 29 settembre. Accanto alla festività religiosa un'altra tradizione, quella dei mercati. Oltre agli appuntamenti classici delle fiere di Borgo Giannotti del 14, 21 e 29 settembre, si trovano altri mercati che vanno dall'artigianato all'antiquariato, passando per il giardinaggio, con murabilia dal 5 al 7 settembre. Tra le altre manifestazioni, le rievocazioni di vita cinquecentesca a cura dell'associazione Il Sogno di Costantino, alla Casermetta San Donato il 12 e il 27 settembre. Da ricordare infine l'apertura del Luna Park a Borgo Giannotti il prossimo 30 agosto e i fuochi d'artificio, immancabili il 13 settembre alle 23.30.